Da giorni il presidente Gianni parlava della possibilità di aprire le vaccinazioni ai settantenni e non appena avuto la conferma che AstraZeneca avrebbe inviato l'attesa a fornitura già nei prossimi giorni, all'ora di cena di ieri sera, si è dato il via libera alle prenotazioni con un'autentica valanga di persone che si è messa davanti al PC per fissare la propria dose. A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana per le persone fragili, stavolta il sistema non è andato in tilt ma le attese sono state limitate. Vaccinazione sprombattuto con appuntamenti fissati negli hub della Toscana anche a Pasqua e Pasquetta. Riaperte anche le agende per il personale scolastico e universitario e per le forze dell'ordine mentre dalla regione emerge che dopo le polemiche sulle vaccinazioni e gli avvocati il mondo della giustizia è ora stato definitivamente rimosso dalle categorie con priorità. Sono 14 mila le prenotazioni fatte ieri nella prima ora dall'apertura delle agende. Al Mandela Forum, in attesa dell'ampliamento dell'orario di chiusura dalle 19 alle 23, è in corso anche l'allestimento di nuove cabine vaccinali per aumentare la potenza del hub. Sono inoltre in procinto di partire dopo l'accordo tra governo e regioni le vaccinazioni nelle farmacie. Ieri mattina il portale prenota vaccino della regione ha attivato anche la nuova funzione per le riserve e destinata a tutti gli eventi diritto che trovino le agende esaurite. Resta il nodo delle persone vulnerabili che hanno riservato il vaccino moderna e che quindi vedono il destino della propria dose legato alle forniture della casa farmaceutica. L'idea è quella di proporre la possibilità di prenotare gli appuntamenti lungo un mese intero per evitare corse e click day, ma tutto dipende da quando e in che quantità arriveranno i vaccini. Quattro categorie di vulnerabili inoltre hanno visto cambiare le modalità di accesso al vaccino, pazienti oncologici, neurologici, immunodepressi e trapiantati saranno chiamati dagli ospedali perché la tempistica della somministrazione dipende dalle cure cui sono sottoposti. Per gli over 80 è in corso l'annunciata accelerazione con l'arrivo delle dosi Pfizer che dovrebbero portare la Toscana a risalire quella classifica che non piace veramente a nessuno.